La perturbazione che ha determinato precipitazioni abbastanza abbondanti ed intense sta ormai passando. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno meno frequenti e si esauriranno decisamente verso sera. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ci saranno inizialmente al mattino nubi residue e poi arriverà il sole. Tuttavia l'atmosfera non sarà del tutto stabile quindi ci aspettiamo alcuni rovesci soprattutto sulle Dolomiti nelle ore più calde. Per quanto riguarda la domenica e lunedì, sole decisamente, tempo buono e temperature in nuovo aumento.